Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti, leggo su ansa.it che un drone è stato trovato sotto la casa di Netanyahu, quindi un drone si è avvicinato, non so se volesse andare a cena da Netanyahu a pranzo, ma in ogni caso è stato prontamente fermato dall'intelligence israeliana, quell'intelligence che ci garantiscono essere la più forte al mondo e che poi però non è stata fatalmente in grado di prevenire l'attacco del 7 ottobre 2023 né di intervenire con sollecitudine. Ma lasciando questa vicenda da parte, che pure non è trascurabile comunque, ragioniamo un attimo sulla vicenda di Netanyahu. Netanyahu ha detto che si tratta sicuramente di un drone inviato dall'Iran, quindi senza averne certezze abbiamo già il colpevole secondo Netanyahu, sicuramente è colpa dell'Iran, del resto per Netanyahu è sempre colpa dell'Iran, proprio come per la civiltà dell'hamburger è sempre colpa della Russia. Vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto segnaliamo che la narrativa resta sempre la stessa. Israele ha diritto di difendersi e questo diritto di difendersi contempla la possibilità di attaccare tutto il mondo sostanzialmente, così dice l'ideologia dominante. La lotta contro il terrorismo di Israele, d'altro canto, è essa stessa ormai indistinguibile dal terrorismo stesso.